Intanto preventivamente a parlare del sindacato occorre approfondire quell'aspetto che ovviamente è stato indicato nella prima introduzione di Nando ma che va poi in qualche modo sviscerato nella sua concretizzazione attuale, cioè qual è l'offensiva, qual è lo stato dell'offensiva padronale contro il mondo del lavoro perché naturalmente c'è l'offensiva complessiva, Nando ha bene illustrato credo l'offensiva ideologica e politica contro il mondo del lavoro, contro ogni prospettiva di trasformazione ma poi c'è l'offensiva materiale che tende a modificare e in profondità le condizioni di vita e di lavoro della classe lavoratrice e a mettere sempre più nell'angolo ogni possibilità di controffensiva. E di questi giorni i telegiornali, i talk show sembra che non parlino d'altro che di articolo 2018 esattamente per dar manforte al governo che tutti i giornali di ogni tendenza occorre dire, da quelle di sinistra moderata a quelle di destra e di centrodestra, tutti appoggiano le misure del governo Renzi in materia di lavoro e sembrerebbe quindi che ci sia una sorta di destino segnato di queste misure e ci sia quindi una sorta di giustizia sostanziale, visto che tutti sono d'accordo, perché contestarle? Si parla prevalentemente dell'articolo 18, in realtà credo che la questione sia molto più complessa nel job act. Certo c'è il sostanziale completamento dello smantellamento dell'articolo 18, però io vi voglio portare una testimonianza diretta mia. Io nella mia attività sindacale ho coordinato un ufficio vertenze della CGL, tra le altre varie cose che facevo, coordinavo un ufficio vertenze della CGL, l'ho coordinato fino a sostanzialmente fino a fine luglio, quindi fino a due mesi fa e quindi l'ho coordinato anche nel passaggio dall'articolo 18, così come scritto nello statuto dei diritti dei lavoratori nel 1970 e come modificato invece nel maggio, nell'aprile del 2012 dalla legge Fornero sul mercato del lavoro. Ora se mi fossi potuto preparare vi avrei potuto portare delle cifre esatte, però vado quindi un po' a memoria con una sostanziale e non irrilevante arrotondamento, diciamo, approssimazione. Però credo comunque che l'importante sia di rendere l'idea rispetto a quello che è accaduto. Ora, fino a prima della modifica portata dalla Fornero, in questo ufficio vertenze che ha una dozzina di sportelli sparsi in quadrante di Roma, in questo ufficio vertenze noi raccoglievamo da due a tre, questo lo ricordo, da due a tre, però non mi ricordo il decimale del due virgola quanto, da due a tre impugnative di licenziamenti ogni giorno, cioè ogni giorno in uno dei 11 sportelli del mio ufficio vertenze si presentavano due o qualche volta tre, mediamente ovviamente, poi c'erano giorni in cui se ne presentavano molti di più e giorni in cui non si presentava nessuno, però sto facendo la media dell'ultimo anno, quindi del 2011, era da due a tre impugnative ogni giorno. Che cosa vuol dire impugnare un licenziamento? Io vengo licenziato con una determinata motivazione, quel licenziamento lo ritengo ingiustificato, vado all'ufficio vertenze, l'ufficio vertenze scrive al datore di lavoro dicendogli guarda che questa motivazione è infondata, per cui ti chiediamo di annullare quel licenziamento in forza dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, legge 300 del 70. Questo veniva scritto, il datore di lavoro rispondeva no, quello è giusto, noi allora chiedevamo un incontro tra il sindacato e il datore di lavoro, alla presenza o meno, secondo dei casi, del lavoratore coinvolto e lì si svolgeva un confronto sindacale. Naturalmente a volte il motivo era parzialmente fondato, a volte il motivo era giustificato, giustificato ovviamente nella logica della gestione dell'azienda e delle leggi, giustificato socialmente non è mai un licenziamento, però a volte era palesemente infondato e ovviamente questo giudizio modulava diversamente il comportamento in questo confronto sindacale. Ebbene, cosa succedeva? Che molti lavoratori sotto sotto ci dicevano guarda che io non voglio essere reintegrato perché ho trovato già un altro posto di lavoro oppure io in quell'azienda non ci ritorno più perché ho litigato così ferocemente che nemmeno se mi chiamano ci voglio andare e quindi dicevo, però ovviamente impugnavano. Perché? Perché o si otteneva la reintegra oppure si otteneva un cospicuo una cospicua indennità economica di io ricordo in un caso abbiamo ottenuto 60 mensilità non so se è chiaro 60 mensilità vuol dire 5 anni pagati pur che tu te ne vada via dalle scatole quindi diciamo questa era la situazione tu avevi la spada di Damocle della reintegra e quindi potevi contrattare un numero determinato di mensilità ripeto, modulando l'ipotesi a seconda della fondatezza o meno perché se poi il datore di lavoro non accede alla mediazione sul numero di mensilità è chiaro che si deve andare davanti al giudice il giudice può decidere la reintegra oppure decidere le mensilità questo lo poteva fare la prima però c'era la reintegra per ogni tipo di licenziamento ingiustificato poi c'è stata la modifica del Fornero ebbene c'è stata una caduta verticale che si è mantenuta nell'anno successivo perché io sono stato fino a luglio del 2014 quindi ho vissuto tutto l'anno la seconda metà del 2012 tutto il 2013 con la nuova formulazione dell'articolo 14 e credo che non si siano presentati più di uno o due questa cifra non la ricordo esattamente più di uno o due impugnative alla settimana il che significa che erano non più di 4-8 al mese a fronte di due almeno ogni giorno prima quindi diciamo una quarantina al mese 40 o a volte 50 al mese perché questo? perché evidentemente non essendoci più sostanzialmente la reintegra se non nel caso del licenziamento palesemente discriminatorio ma nessun padrone a meno di quelli proprio i più sprovveduti fanno un licenziamento palesemente discriminatorio se io ti voglio mandare via perché sei musulmano o perché sei gay non è che ti mando via scrivendo nella lettera sei musulmano o sei gay ma a chi è quel demente che gli viene in mente di scrivere una cosa del genere? ti mando via perché dico il tuo posto di lavoro è soppresso per motivi di diversa organizzazione aziendale cioè quindi per motivo economico e quindi è chiaro che non avendo più la spada di Damocle della reintegra ma perché il datore di lavoro dovrebbe accedere a stabilire quant'è il numero di mensilità da dare ti fa già il licenziamento e ti dice io ti do tot mensilità a seconda del suo buon cuore e il lavoratore non è che va a fare l'avvertenza per avere due mensilità in più o una mensilità in più perché è ovvio che non gli vale nemmeno la pena e questo è l'articolo 18 che oggi vogliono cancellare quindi badate questo non significa sminuire l'importanza dell'operazione che Renzi vuole fare sull'articolo 18 ma significa indicare come appunto questo smantellamento fa parte di quell'attacco politico ideologico più ancora che dell'attacco sociale naturalmente non significa che sarà irrilevante neanche questo ma questo è un altro discorso e non voglio ovviamente soffermarmi troppo ma nel Job Act ci sono anche altre cose piuttosto importanti c'è la reintroduzione del controllo a distanza cancellata nel 1970 esattamente dallo statuto cioè il fatto che io non posso essere sorvegliato con una telecamera dentro il posto di lavoro ne posso ma quello sembra che rimanga ne posso essere pedinato fuori del posto di lavoro per controllare la mia vita privata ma quello sembra che non lo aboliscano anche se essendo probabilmente una legge delega poi quello che scriveranno dopo diciamo non possiamo del tutto prevederlo perché diciamo le forzature delle leggi delega ne è costellata la storia della legislazione del nostro paese ora la abolizione del controllo a distanza è una misura di violenza padronale gratuita cioè è una misura di puro e semplice affermazione del cui comando io e tu devi fare come un robot lo farebbe quello che io ti dico che devi fare sia rispetto al tipo di lavoro da fare ai movimenti da svolgere nella catena o comunque nel processo produttivo sia dal punto di vista del ritmo che devi e quindi se a te capita di andare a prendere un caffè o di andare al gabinetto una volta di più di quello che ti è consentito dal ciclo produttivo io ti vedo ti vedo nel senso che vedo che ti allontani e che interrompi il ciclo produttivo perlomeno nella tua postazione e con le conseguenze disciplinari del caso quindi si tratta di una motivazione che non è mentre quella dell'articolo 18 ha la motivazione che ovviamente per noi è totalmente falsa del dire rendiamo tutti uguali noi garantiti e non garantiti eccetera riprendendo questo slogan che una volta usavano gli autonomi adesso diciamo viene usato da Renzi e dalla Confindustria in realtà l'abolizione del controllo alla distanza non ha alcuna motivazione se non la pura e semplice affermazione del cui comando io e ogni cosa che si muove qua dentro io devo saperla e tenerne conto quindi la qualità della soggettività del lavoratore nel posto di lavoro viene ulteriormente e drasticamente ridimensionata e poi c'è tutta la parte degli ammortizzatori sociali che combina la quantità di chiamiamola così cassa integrazione cioè di sostegno a reddito alla quantità di contributi che tu hai versato con la conseguenza che chi è diciamo alla sventura di lavorare in una azienda nella cui la cui produzione è traballante e quindi spesso ti mette in cassa integrazione la tua cassa integrazione sarà proporzionalmente decurtata secondo quanto sei stato in cassa integrazione nel passato ovviamente fino ad azzerarsi perché è chiaro che mano mano che la decurti e tu fai altra questo è naturalmente barbaro perché significa che proprio i lavoratori che stanno in situazioni di aziende più deboli e più sottoposte a oscillazioni del mercato verranno colpiti ma badate siccome si parla di contributi figurativi non possiamo neanche escludere che in questo vengano inserite quelle assenze che comportano appunto i contributi figurativi e non i contributi monetari dovute per esempio alla maternità cioè la donna che è stata assente per parecchi mesi per una o più maternità ovviamente avrà una cassa integrazione minore del suo collega maschio che evidentemente non si è mai assentato non si è mai assentato questo che cosa punta questa cosa punta noi avevamo che oggi diciamo così l'esercito di riserva cioè quella massa di lavoratori senza lavoro che in qualche modo costituisce una spina nel fianco per l'azione rivendicativa e sociale della classe lavoratrice perché evidentemente essendo disperatamente senza lavoro bussano alla porta delle aziende chiedendo un lavoro purché sia e purché sia pagato un qualche cosa e che quindi in qualche modo è un ricatto sui lavoratori occupati più o meno stabilmente bene quella oggi è composta dai disoccupati che sono tanti perché sono molti milioni tre ufficiali ma quelli sostanziali molto di più e in qualche modo in questa categoria non si collocano perlomeno non si collocano del tutto i lavoratori e le lavoratrici in casa integrazione o in mobilità perché hanno certo un'indennità che non è tanto quanto la diciamo il il salario che percepivano precedentemente ma che in qualche modo gli consente di di non accettare qualunque lavoro e purché sia pagato qualche cosa perché comunque loro diciamo 7-800 euro al mese li prendono e quindi non è che può venire un 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 datore di lavoro e ti dice io ti assumo e te ne do 500 perché ovviamente perché dovrebbe farlo allora è chiaro che invece questi essendo sempre più impoveriti da ammortizzatori sociali in decrescita avranno cominceranno ad essere parte integrante dell'esercito di riserva cioè di coloro che vanno a bussare alle aziende con riflessi ovviamente sulla capacità di azione sindacale di azione rivendicativa e di tenuta delle lotte nei lavoratori occupati ultimo punto poi il job act è più complesso ma ultimo punto è la questione del TFR il job act e questo è molto poco diciamo tenuto in considerazione ma lo ritengo importante il job act prevede il fatto che ogni mese venga liquidata il 50% del TFR il TFR mediamente poi nei contratti a volte è un po' diverso ma il TFR mediamente è il 7% del salario che per una legge degli anni 30 invece di essere versato al lavoratore viene accantonato dall'azienda che glielo dà come TFR appunto la cosiddetta liquidazione o buon'uscita che si dà al termine del rapporto del rapporto di lavoro che è una sorta di ammortizzatore sociale in più ora badate oggi nel reddito che voi chiunque lavori calcola non è che ci calcola pure il TFR io calcolo che guadagno 1200-13X al mese e quello è il mio reddito e quello è anche il mio reddito disponibile per andare al mercato al supermercato a fare la spesa è vero che poi mi daranno il 7% di tutto quello che ho guadagnato mi dovrebbero dare qualche volta poi per fallimento non glielo danno ma questo è un altro discorso mi dovrebbero dare il 7% quando mi licenzieranno o quando andrò in pensione però quello sarà una cosa con cui magari mi compro un'automobile nuova o comunque pago un po' di debiti che ho accumulato insomma faccio qualche cosa che non posso fare durante la mia vita lavorativa perché non ne ho la disponibilità ora se ti danno il 3,5% in più al mese simulano un aumento salariale del tuo salario mettono mettono in circolazione un 3,5% in più di moneta da poter essere spesa nei supermercati quindi diciamo invertendo la ruota della deflazione e portandola verso l'inflazione quindi un aumento dei costi e quindi a una parallela diminuzione del potere d'acquisto delle retribuzioni ma non ci mettono un soldo perché quelli sono già soldi tuoi guardate questo è una cosa diabolica la confindustria lo propone da decenni questa cosa perché è evidente che è un modo gratuito totalmente gratuito di sono soldi tuoi che io fingo di darti e quindi chiaramente è una manovra molto simile a quella degli 80 euro di maggio nel senso che lì ti hanno dato soldi sempre tuoi tagliandoli alla sanità tagliandoli allo stato sociale ma dandoteli come un finto aumento per almeno alcune milioni di lavoratori che si trovavano in una determinata fascia di reddito e che però erano soldi della fiscalità generale come diremmo allora questo è per quello che riguarda lo stato sociale poi già Nando ma è più specificamente Antonella per quello che riguarda la sanità ci hanno detto quello che riguarda la situazione dello stato sociale nelle sue varie branche noi vediamo che le pensioni ormai in Italia conoscono il sistema previdenziale il peggiore d'Europa non più peggiore peggiore d'Europa sì sì ora le pensioni sono quindi già state oggetto di pesanti interventi ma non si esclude che lo siano di nuovo con la legge di stabilità che stanno scrivendo in questi giorni o comunque che pubblicheranno tra pochi giorni la sanità e diciamo Antonella ci ha detto e quindi non aggiungo nulla in più a quello che ha già detto la scuola con il piano per una buona scuola che di cui sicuramente avete letto sia sul nostro sito sia su in generale sulla stampa e su cui noi dobbiamo svolgere un grande lavoro di sensibilizzazione e di mobilitazione con anche verso la giornata del 10 di ottobre per la mobilitazione studentesca e degli insegnanti e dei lavoratori della scuola prevista in quel giorno e più in generale tutto il processo di privatizzazione dei servizi pubblici dalla scuola alla sanità di cui si diceva ai trasporti a tutti i vari servizi pubblici che e servizi di recapito postale eccetera eccetera privatizzazione ma anche laddove non riescono a privatizzare perché non c'è nessun privato che sia disponibile a comprare al cosiddetto processo di aziendalizzazione cioè a far funzionare quei servizi attraverso diciamo meccanismi che simulano l'azienda privata che appunto a volte rasentano il ridicolo ma che poi è un ridicolo grottesco come calcolare che i servizi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro come quello che nel quale lavora Antonella venga diciamo calcolato e valutato rispetto a una redditività che è tutta sociale ma che non ha nessuna non può avere nessuna redditività economica economica perché già le aziende non pagano nemmeno le multe che pure a volte hanno perché non rispettano le leggi rispetto alla sicurezza del mondo del lavoro e quelle sarebbero l'unica entrate che in qualche modo potrebbero compensare le spese della prevenzione della prevenzione poi vabbè ci sarebbero tante altre cose dai ritmi di lavoro al mercato alle tante forme del mercato del lavoro la precarietà ne abbiamo parlato tante volte e sono già stato lungo su questo punto e non vorrei soffermarmi ci oltre però occorre dire che tutto questo è passato nella sostanziale passività del mondo sindacale naturalmente dal punto di vista dell'analisi politica noi possiamo dire che i sindacati confederali e in primo luogo la CGL hanno assistito passivamente a queste cose e stanno assistendo con relativa passività anche adesso poi staremo a vedere quanto diciamo riusciranno a concretizzare l'opposizione al Job Act e comunque ci torno poi ma per un dato molto semplice per un dato molto semplice perché in realtà tutte queste tutte queste operazioni tutte queste sono state fatte dai governi di centro-sinistra tutte quelle che vi ho elencato sono state fatte da governi nei quali il PD oppure diciamo le sigle che hanno preceduto il PD di SPDS avevano un ruolo centrale o diretto o indiretto tutte perché l'unica cosa sostanziale che ha fatto sul mondo del lavoro il governo Berlusconi è importante la legge 30 che ovviamente ha destrutturato ha destrutturato pesantemente il mondo del lavoro ma diciamo comunque inserendosi in un solco che era già stato aperto dal governo di centro-sinistra della fine degli anni 90 e cioè il pacchetto il famoso pacchetto treu sul quale abbiamo tanto discusso per chi ovviamente c'ha qualche anno in più appunto all'epoca c'è una una quindicina di anni di anni fa quindi tutto questo è stato fatto da governi tra virgolette amici o diciamo non del tutto amici ma rispetto ai quali non ci si voleva opporre come il governo Monti e come il governo Letta quindi questo è un elemento fondamentale di analisi perché non è che uno sembra che quando uno dice guarda che queste cose sono state fatte dai governi di centro-sinistra sembra che lo dici sembra che sia una sorta di ripicca no non è questo non perché vogliamo alleggerire le responsabilità di Berlusconi ma perché vogliamo chiarire i meccanismi politico-sindacali che hanno creato la passività delle organizzazioni sindacali e in primo luogo ovviamente della CGL perché Cisloil esplicitamente erano d'accordo con gli obiettivi padronali e governativi lo dichiaravano devo dire perlomeno più spudoratamente ma forse addirittura più onestamente della CGL questo è il dato che porta oggi di fronte a questa raffica di sconfitte sul piano della tenuta delle conquiste dei decenni scorsi porta alla crisi all'impasto sindacale che conosciamo Eliana Eliana l'ha detto alla riunione del coordinamento nazionale che si è svolta ieri pomeriggio ma io ero presente quindi posso posso dirlo anch'io è veramente incredibile all'ultimo direttivo nazionale della CGL la la segretaria generale del più grande sindacato di categoria della CGL cioè il sindacato pensionati e il segretario generale della seconda struttura territoriale della CGL cioè il segretario generale dell'Emilia Romagna sono intervenuti dicendo esplicitamente con queste parole la CGL è in profonda crisi si erano evidentemente messi d'accordo prima perché hanno usato tutte e due la stessa formula ora non è irrilevante che finché lo diciamo noi siamo i soliti rompiscatole siamo quelli catastrofisti che insomma non vedono che in realtà il futuro è radioso che insomma la CGL è forte e al riparo da ogni problema e che il mondo del lavoro certo è un po' acciaccato ma insomma noi che centriamo non è certo responsabilità nostra ma invece lo dicono due dei dirigenti ma segretari generali delle più grandi organizzazioni di cui è composta la CGL 3 milioni e mezzo i pensionati discritti e 800 mila l'Emilia Romagna discritti quindi sommati insieme fanno la maggioranza della CGL ora questo è un dato materiale poi vabbè ovviamente ci sono le piccole battaglie di leadership e personalistiche tipiche diciamo degli apparati burocratici in difficoltà però e anche con una leadership debole e fragile però il punto determinante è che è vero che c'è la crisi della CGL e perché c'è la crisi perché c'è la crisi non solo della CGL ma come diceva Nando c'è la crisi dell'idea di sindacato perché ovviamente oramai intere generazioni di lavoratori conoscono solo le sconfitte del sindacato e allora perché il sindacato il sindacato era diciamo uno strumento ritenuto utile non perché così c'era scritto sui libri sacri ma perché diciamo era lo strumento apparentemente lo strumento con cui si erano riportate conquiste importanti poi è chiaro che se non ci fossero state le lotte di piazza degli operai se non ci fosse stato Corso Traiano a Torino non diciamo non bastava che la CGL alzasse la voce per ottenere un contratto importante con risultati importanti e fondamentali però diciamo poi chi in qualche modo aveva la paternità formale era il padre putativo diciamo così di quelle di quelle conquiste era il sindacato e in primo luogo la CGL evidentemente che trascinava dietro nel periodo delle lotte anche Cisle Will oggi perché il sindacato visto che con il sindacato si perde solo quindi è chiaro che c'è una c'è una crisi una crisi che non è solo né tanto organizzativa ma è una crisi di ragion d'essere e quindi una crisi che rischia di avvitarsi su se stessa e come tutte le crisi di questo tipo di collassare è vero che la crisi non ha manifestazioni diciamo così platealmente visibili oggi cioè non è che ci sono sedi che chiudono insomma ma in realtà c'è una crisi profonda che rischia di far di portare all'implosione di questi apparati mastodontici e questo chiaramente ha una importanza fondamentale analizzarlo noi abbiamo affrontato questa questa cosa con una linea che è piuttosto semplice ah no scusate questa crisi riguarda la CGL e i sindacati confederali i sindacati collaborativi diciamo così ma è una crisi che appunto come diceva Nando coinvolge l'idea di sindacato e quindi è vero che magari io posso dire vabbè ma va a quel paese la CGL e mi scrivo a quell'altro sindacato di base perché è un po' più radicale ma è una cosa relativamente effimera perché poi anche quel sindacato radicale non riesce a portare a casa risultati e quindi alla fine dici non ce l'ho fatta col sindacato collaborativo che tenta di trovare la via di mezzo col padrone non ce l'ho fatta col sindacato radicale ma andate tutti a quel paese e io perché se devo questo è succo diciamo forse un po' troppo schematizzato troppo brutalizzato della crisi della crisi sindacale che poi è una crisi nel rapporto perché è vero che diciamo si è passati dalla collettività agli individui ma poi le collettività sono fatte di individui e le crisi appunto sono crisi del rapporto individuale con quel ancora non c'è la crisi del rapporto del rapporto complessivo perché la crisi del rapporto collettivo della classe con il sindacato con l'apparato burocratico del sindacato non può che esserci da sinistra cioè nel senso che noi abbiamo assistito anche qui i più anziani di noi hanno assistito a momenti di di crisi collettiva del rapporto tra fette importanti del mondo del lavoro e il sindacato attorno all'epoca degli accordi del 92 93 ci fu quel famoso diciamo la stagione dei bulloni cosiddetta così solo perché in qualche manifestazione vennero lanciati un po' di bulloni non è che li lanciavano dappertutto ma insomma ci fu una situazione in cui ampi settori di lavoratori anche e soprattutto di iscritti alla CGL contestavano platealmente in piazza le scelte del sindacato allora quella è una crisi che può diciamo portare a sinistra a una costruzione diversa e diciamo propositiva la crisi individuale non porta a nulla e i sindacati cosiddetti di base che puntano solo a capitalizzare la crisi individuale cioè puntano a diciamo cercare di ricavare un po' di briciole di costruzione propria naturalmente è legittimo questo tentare di farlo ma avere questo come linea invece è profondamente sbagliato quindi questo è il dato di fondo della crisi sindacale dentro questo ovviamente c'è una specificità che è quella della FIOM che ha avuto nel corso della prima fase di questo inasprimento padronale la fase diciamo di Marchionne per sintetizzarla con un cognome ha avuto un ruolo assolutamente importante nel polarizzare un'idea di opposizione all'offensiva padronale polarizzando anche ampi settori addirittura polarizzando settori non maggioritari ma importanti dello stesso sindacalismo di base non dimentichiamo che alle prime manifestazioni della FIOM parteciparono anche Cobas e alcuni settori della CUB e alcuni settori dei sindacati dei sindacatini di base diciamo vari sicobas insomma le varie sigle minori del sindacalismo di base non certo la CUB complessivamente né tantomeno l'USB ma perché l'USB punta diciamo sul collasso e quindi ha una ora la FIOM è ovviamente in complessiva crisi perché non ha retto quell'offensiva non ha tenuto quella opposizione ha cercato di trovare una mediazione dopo la vicenda della Bertone ma anche la linea della mediazione non ha pagato non è riuscita a rientrare nel gioco e quindi si è trovata in mezzo a un guado senza essere un'alternativa al collaborazionismo del vertici confederali senza essere un punto di riferimento di una controffensiva complessiva in tutto il mondo del lavoro ora però naturalmente tutte queste contraddizioni tutte queste crisi diciamo devono vedere una nostra azione approfondita profonda dentro il sindacato e nelle aree sindacali conflittuali noi abbiamo svolto di questo diciamo non è qui merito di approfondire questo abbiamo svolto una battaglia diciamo noi una parte dei nostri compagni impegnati nella CGL hanno svolto un importante ruolo nella battaglia congressuale che si è conclusa a maggio di quest'anno e diciamo svolgendo un ruolo dentro la corrente di sinistra della CGL assolutamente determinante non solo determinante dal punto di vista della gestione politico-organizzativa di quella di quella corrente ma anche determinante perché quella corrente prendesse un una linea diciamo conflittuale e di movimento non una linea di semplice contrapposizione verbale alle direzioni burocratiche naturalmente però questa cosa ha assorbito tante energie della nostra organizzazione sia nazionalmente che localmente è chiaro che questa cosa ha da essere in qualche modo sistematizzata il nostro radicamento nel mondo del lavoro il radicamento organizzato come sinistra anticapitalistica deve migliorare e rafforzarsi anche attraverso il ruolo che abbiamo avuto in quella vicenda e poi c'è bisogno di un intervento non solo sindacale nel mondo del lavoro perché se è vero quello che diceva Nando sulla crisi ideologico-politica anche l'intervento dell'organizzazione politica ha grandi necessità io mi fermo qui perché sono stato ho superato di dieci minuti anzi quasi un quarto d'ora quello che però è un po' improvvisata e quindi mi scuso è un po' Grazie.